Musica Benvenuti su Cazzeggiamo su Videogiochi Oggi per voi Alfa, Gianji, Gamer E siamo in compagnia di... Di nessuno Di nessuno, ok, insandiamocene via Ah, no Aspè, 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 ferma un attimo Devo stoppare Ins No Aspetta, Ins, si chiama Ins? Chi è questo? Ins Ins Sei serio? Ins, ciao, Ins Chi è Ins? Ah, ma è l'antennista che abbiamo chiamato per l'hotel Eh, guardate, guarda Non si mette l'antena, guarda C'è Adesso lo dico, se si prende il segnale Si lamentano perché non si vede la... Si prende il segnale Si lamentano No, hanno detto no Non si prende il segnale Eh, perché dicono... Eh? Vuole aggiustare Ins? Che cosa? Basta, ciao Bene ragazzi, oggi siamo in compagnia di Adon Deve salutare prima tu Vedi, non sei messa l'altro? Ciao, ciao, ciao Oggi abbiamo un altro new entry dopo Cioè siamo pieni di entry E Ins! Link in descrizione del canale E oggi cosa facciamo? Oggi... Ah Ma così proprio devo... Aspetta, devo andare a trovare il magazzino, no? Oh, ma... Ma perché qua non c'è più niente? Cioè... Cioè... Ma aspetta, aspetta, aspetta Fai, ma... Fai, ma non c'erano le fornaci qui? Eh, appunto Ma se io provo... Aspetta, ma se... Esci Ma... Boh, non lo so Rompi Che cacchio Entri a... Che sigla What the fuck is you doing in the new room? Pimp my room Cioè, it's a beautiful room It's a beautiful room Le porte qui so baggate Che caccio le metti? Perché fa figo? Dove? Uscite, non metterti al centro Perché? Esci Va bene Dove sto io? Mettiti qua Mettiti qua Mi sto allevando Eh Bitch Ah, il cabinetto Finalmente nell'isola Abbiamo il cabinetto Ah Ragazzi Solo 22 livelli Che schifo Ragazzi, finalmente Abbiamo il bagno Ah Ragazzi, voglio uscire? Sto facendo i miei bisogni Azon, che caccio? Sto io? Levati Azon, perché mi guardi? Azon Mamma mia Il piccone migliore del mondo Azon Non ho Non ho esperienza Dammi esperienza A me qualcuno mi ha ucciso Non so chi Allora, mettiti dove sta l'albero Vedete se si vede questa cosa Dove sta l'albero Aspetta un attimo Oddio, ma perché avremmo a perdere tempo così? Ma aspetta Allora, ho i fuochi Ho comprato i fuochi d'artificio in uno shop Adesso vieni nella sala Vedi, si svitono Corri, corri, corri Corri Vieni nella sala Perché? Andiamo, fammi passare al solfizio Corri nella sala Presto Inse, ero ben portante E dai Avevo la spada in diamante Ok, andiamo a fare il ponte Dammi il ferro Dammi il ferro Bombambi, bombambi, go, 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 b Ragazzi, mi sono trovato in discesa Trovo sto Non ho notato, non ho notato, sai Dammi un po' di ferro Ebbene, ma viene lui, vuole il ferro 28 E che palle Altri due Aspetta, io so per simmetria Ma la simmetria Va a partire alla mia zia Ok, vado a prendere, sopra te, a casa tua A casa tua Perché parlo, perché parlo, perché parlo Perché, sì, Dio ti ha dato la bocca E le corde vocali Con quelle corde e poi gli impicchi E noi siamo più contenti 30 livelli, ciao 30 livelli 30 Come quelli della Joendus Forza Napoli Cosa? Forza Napoli Non è vero, forza, prozzo uccise Prozzo uccise Una squadra che sta in serie P P1 In serie P Basta, basta Questa è basta 30 bloc No, da 30 bloc Dove hai non sparare gli animali Eh, l'abbiamo fatto lo stesso di là Cogliance 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 Cioè, io non prendo Mi danno zero a me Seppure io rischio la vita Per il sostenimento No, c'è già Se no te sparano No Ora Vado per muare lì Oh, oh Prendi le torce Torce spanna il mondo Mundo aiuto Help, help, help me Help me Give me Gobbi, gobbi Gobbi Oh, due Bandatelo A, 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 A P in lunga In lunga A, 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 A V P in lunga A, 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 A V, A, A V P in lunga al massimo qua poi piazzate due ma che cazzo è cazzo da sole non mi preoccupare torce torce azon torce era andata a fare la carbonella prima oddio che cosa addio amici addio ci rivedremo domani domani ma i slab sono pagato qualcuno cacchio porti torce muretti prima che bestemmio tutti gli animali aspetta che devo scrivere una cosa guarda in chat azon non possiamo fare niente azon non possiamo fare niente più perchè? mi hanno bannato davvero? no scherzo è finita l'isola come è finita? io non ho blocchi c'è una caffè d'intepo qui vicino è finita l'isola ma che merda è piccolissima st'isola inizio devo dire devo reclamare ma è finita guarda come è finita? è settile guarda vedi? ma dammi un po' di slab dammi un po' di slab raga c'è qui va più che bene come cosa c'è si ma non possiamo non è capito dammi la slab non possiamo costruire vedi? gianji basta qui va bene c'è facciamo tutto qui ora ti faccio vedere oh ragazzi 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 zitto zitto ho piantato ho plantato ho plantato oddio aiuto raga ci dobbiamo ins penso che devi andare secondo me penso che ti ha dato un segnale secondo me poi non so potete sapere che il nostro inze penso che il nostro inze è helper oh dio mi hai fatto mettere paura è helper del eh stavo dicevo in un altro server ma annaccio ma annaia a me 4 5 6 7 8 9 lo sai che stai sbagliando? perché? e i bordi i bordi li fai così no? 300 anni inze tu fai i bordi dell'altra parte tanto 2 eh quattro abbiamo che cosa? che cosa? quale slab? che ti ha dato? quale? 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 vatti a fare? abbiamo un'allegnata non finire va 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 perché abbiamo raggiunto i one hundred subscribers yes so che stai dicendo 1000 ha 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 io hablo in spagnolo perché io sono di spagna oddio mi ha fatto quante gare vabbè io sono di barsellona perché io ero di barsellona ma il social team figuritz is 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 ma mi ricordiamo che non hai comprato più a 15 no che ti ha detto che stava nessuno tu non lo so ma hai scherzato io oggi sono andata a comprare nel negozio non c'era finito perciò ma perché Gianghi c'ha i soldi quindi lo puoi comprare eh ma ultima mia mi sto mettendo da parte da due anni per comprare 15 infatti poterlo dice non l'ho comprata però se qualcuno mette le torce c'è no le torce non le mette c'è le torce 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 cassa 1 torce cassa 2 prego prego aspetta non fare i muretti di qua che lo voglio allungare un altro po' perché cosa voglio allungare di qua cosa qua niente ma io ho già fatto i muretti da è un po' storto raga però c'è l'unico modo per allungare mince non funziona sei uscito un pollo dove sta fosse uscito un pollo ma che stai dicendo bisogna mettere l'erbetto ah eh tanto mamma mia troppo ah beh quello che ho fatto sabato magari non dirlo eh anzi devo proprio parlare a tenere di questo in privato vediamo un po' di slab comunque per chi voresse parlare con noi due chiacchiere anche realizzare video con noi ci trova nel ts ts di buoncraft 24 ore su 24 più o meno in circa allora a me mi trovate dopo le tre adesso con dopo le quattro e inizio tutti i giorni per camper inizio tutti i giorni mentre per 3 su 24 ah beh dopo le due perché perché no lavora inizio inizio è grande inizio inizio è grandissimo si inizio a vendere per cochi al mercato e poi lavo i panni sporchi a neurokill no poi lavo i panni sporchi della squadra della prozzozzese la divisa sporca e lava ti vorrei killare no aspetta la putt ma laia chi è se la faccio si è botto si è botto si è botto si è botto gur 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 ecco perché io poi caccio dalle serie alcune persone mi richino al potere in mano signore al potere in mano no 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 non c'è mai stato il non è stato la cesta si la cesta la cesta la cesta non è la cesta ma la cesta la quantità ma la cesta eeeh 12 quando è due cose abbiamo finito ecco appunto qua allora fai tutto di qua con le slab quale se le tolgo aspetta si finita la slab si oppi di un pd di un pd di un pd comunque ragazzo lo dico adattati proprio lui ha detto che quando raggiungerai 50 iscritti come lo sapevi certo lo corto molto al link di giudano nella descrizione quindi se volete comprare ma troppa manina ma la troppa ah oh ragazzi attento 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 io ce l'ho fatto il giro avvp in short avvp in short avvp in short lo vido lo vido lo vido vado a disarmare ciao bomb defuse su punti bucchia ea vittoria mi vuole il mio obiettivo pennarello mai andiamo a completare io so dove stai tu e mi sono i 16 pezzi di ferro che avevo t'ho preso la terra che vuoi all'altro oggetto controlla nella mia stanza pensavo che sia pensavo che è torto quest'albero perché allo quando è guardami quando quando non hai stimolo è piccolo poi mi spieghi la stronzetta che faccio no no faccio una passarella no non ha senso sta cosa fuck you madre oh che stavo dicendo i speak english very well because i live i from i manchester beautiful city manchester manchester beautiful city manchester what do you like stoppiamo finché non diventa un po' l'erbetta verde ciao ciao a dopo ragazzi eccoci tornati è passato giusto poco tempo 24 ore è un poco tempo in circa abbiamo finito la zona dove far speriamo che spawno questi fottutissimi animali perché se manco fa spawno cosa manca non far vedere cosa manca ha visto che si sta facendo ecco poi oggi adesso non c'è Ainz perché ha detto passate 24 ore è morto sotto un treno volevo dire comunque poverino e quindi questo è ragazzi purtroppo l'episodio deve finire qua perché ormai il tempo si sono fatti 20 minuti di registrazione che io potrei giuzzerò perché voglio essere monegrabber no monegrager scusate monegrager quindi li do fare bene corti corti spero che il video vi sia piaciuto ciao da alpha dungeon gamer e anche da Ainz che non ti rifarmi ballare no no ma la cosa bella è che non c'è proprio su TS ripeto se volete se volete schiacchierare sentiamo schiacchierare schiacchierare mamma mia fare due chiacchier unite nel TS della boeingcraft passa a scrivere su internet indirizzo guarda 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 vieni qua guarda adesso vittuato guarda un attimo fai aprire le porte buonasera buonasera guarda 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 mamma mia fu azono 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 alunna mi guardalo che bella con un fiore si si molto bella non sono è stato lui non sono stato io è stato lui è bene ragazzi l'episodio finisce qua devi farmi finire di parlare sennò ti faccio per mabannet ok l'episodio che cos'è per mabannet l'episodio finisce qua e un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti